Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, video con l'inquadratura stretta perché la mia camera non è in condizioni da inquadratura larga, ho messo una GoPro giusta per farvi vedere comunque, no, un altro ecco piccolo inciso, ecco qua sulla scrivania un povero Rode VideoMic Pro era il microfono con cui registravo i video, il microfono che stava sopra la fotocamera, sopra la Canon, si è rotto infatti negli ultimi video avete visto audio doppiato, ci sono stati un po' di casini purtroppo arrivava a un certo punto lui e cominciava ad abbassare il volume e abbassare il volume fino a circa meno 50 decibel dove la voce si confondeva con il rumore di fondo e quindi Amazon me lo sta sostituendo, l'ho imballato appunto per restituirlo però devo ricordarmi di togliergli la batteria perché ho lasciato la batteria buona dentro comunque tutto questo inciso era per spiegare perché ho un microfono sullo scrittorio ma chi se ne frega essenzialmente, in questo video voglio parlare d'altro voglio parlarvi di questa bellissima cosa che sembra la scatoletta di un processore così di alluminio con lo sportellino, è molto carina in realtà il processore lo vedete qua sopra, però sarà argomento di un altro video questo qui invece era la scatoletta che conteneva questo questo qui che è un ricevitore FPV, quindi segnale video analogico per cellulare, per computer e per tutti i dispositivi invece digitali ed è una figata, voglio parlarvene in questo video perché non avevo intenzione di farci un video ne ho parlato solo sul canale Telegram, vi ho detto quando l'ho preso, ve l'ho consigliato e ve l'ho linkato però mi è arrivato oggi, poche ore fa mi è arrivato, tipo 3-4 ore fa comunque non avevo intenzione di farci un video, però provandolo oggi è veramente una figata non vi potete rendere conto di quanto sia comodo, utile, veramente potente non me lo sarei mai aspettato, potente nel senso che è proprio in diretta il video ha pochissima latenza, quindi riusciresti anche a fare acrobazie, guidare molto veloce le FPV cose comunque adesso vediamo tutto, intanto sigla allora cominciamo con la confezione, confezione che è veramente minimale c'è questa scatoletta di metallo che vi ho mostrato dentro c'era il ricevitore FPV, adesso gli smonto l'antenna, scusate eccolo qui un'antenna di queste qua, di polari, quelle dritte insomma che sono quelle standard di tutti i prodotti e-chain anche il mio kit FPV, anche i miei occhiali FPV che adesso sono smontati, questo qui è in modalità solo schermo ma questi sarebbero i miei occhiali avanti tutti quando sono arrivati l'antenna questa qua normale li ho tutti upgradati, sia il trasmettitore sia tutte le riceventi con le antenne a fungo da più 6 decibel di guadagno e si guadagna molto in distanza ho visto che in realtà la distanza che si guadagna come distanza di ricezione del segnale aumenta considerevolmente per quello che costano queste antenne io consiglio a tutti l'upgrade ma stavamo parlando della confezione quindi c'era lui, c'era l'antenna e c'era semplicemente questo piccolo cavetto USB micro, quella normale dei telefoni maschio maschio e basta, non ci sono istruzioni non c'è niente, un QR, niente questo qui è quanto, non c'è nient'altro l'antenna come ho detto io la prendo e la butto via e ho montato su questa antenna da più 6 decibel che mi garantisce un segnale maggiore il cavetto, andrò a utilizzare questo micro USB maschio a micro USB maschio solo con il telefono ovviamente, telefoni e tablet e chiunque abbia la USB piccola se invece voglio utilizzare il ricevitore FPV col computer mi basta un normale cavo di quelli del caricatelefono cioè che abbia il micro USB da una parte e dall'altra parte la USB normale quello che usate per caricare il telefono semplicemente in modo da appunto connetterelo al computer che ovviamente non ha le porte USB piccole quindi vado un attimo a inserire il cavetto perché questo qui è il prodotto completo con l'antenna modificata, lo ricordo non mi pagano per fare questa accensione né la e-chain né Banggood dove l'ho comprato di cui vi lascio anche il link in descrizione se volete vederlo, acquistarlo cose varie ho detto cose varie e vi voglio subito mostrare come funziona con il telefono si connette ovviamente il cavo USB al telefono e la prima volta che lo connetti se hai già l'applicazione installata ti chiederà ehi, ho ritrovato che hai connesso un dispositivo di questo tipo cioè un dispositivo di input video hai questa applicazione per gestirlo vuoi d'ora in poi aprire automaticamente sempre l'applicazione appena lo connetti io gli ho detto di sì perché così è comodo e infatti appena connetto il cavo USB al cellulare tempo quei 8 secondi che il cellulare si accorga di chi ha il dispositivo USB lo inizializzi e insomma tutte le cose normali del protocollo USB si apre l'applicazione e parte già quindi figata perché io attacco l'USB e bam parte automaticamente sul cellulare il video proprio in diretta del drone diciamo purtroppo non è compatibile con tutti i cellulari e tablet fate attenzione che non è compatibile con tutti quindi vi lascio qua in descrizione il link per scaricare da Google Drive un'applicazione applicazione che non fa nulla cioè non fa niente in sé tranne dirti se il tuo telefono è compatibile oppure no con il protocollo UVC che sarebbe USB video codec qualcosa del genere USB video qualcosa il mio telefono come tutti quelli che supportano l'USB OTG lo supporta il Kindle purtroppo Kindle Fire non lo supporta ma lui non è neanche USB lui è una roba Amazon un po' sfigata è un Android molto sfigato per i fatti suoi comunque sì questo qua sono io lo sto usando per vedere lo schermo della macchina fotografica da questa distanza sul davanti, sul sopra dipendendo dove lo guardate di questo coso c'è semplicemente un bottoncino rosso c'è un bottoncino rosso che se lo premo ovviamente quando il coso è alimentato se lo premo mi va a fare una scansione delle reti con un effetto grafico bellissimo tra l'altro comincia a disegnare un grafico di tutte le bande che passa questo grafico avrà degli alti e dei bassi in base a dove ci sono dei segnali e alla fine di questa scansione lui va a selezionare automaticamente il picco che lui ha trovato a rappresentare il segnale del nostro drone quindi grafico e tutte robe disegnose bellissime a parte quello che dovete sapere semplicemente è che con l'fpv del drone acceso premete il tasto e lui fa tutto da solo ti trova al canale, si sintonizza lì sta lì fermo sulla frequenza del drone quello che mi ha veramente stupito però è la latenza perché tu dici ok allora quando io ho questo schermo qui che è lo schermo che io uso all'interno dei miei occhiali qui manca una parte che adesso ho tolto manca la parte della lente e del mount per la faccia insomma quindi la telecamera del drone analogica prende un video analogico lo spedisce attraverso un'antenna analogica quindi delle onde che trasmettono un video analogico viene ricevuto da un dispositivo analogico e proiettato su uno schermo analogico la latenza è nulla è praticamente niente qualche millisecondo proprio la latenza è il ritardo del video ed è molto importante se guidate il drone allegramente diciamo se fate acrobazie o correte insomma anche un quarto di secondo di ritardo potrebbe farvi schiantare contro un palo che pensavate fosse più lontano o comunque farvi fare le manovre troppo in ritardo e alla fine farvi schiantare in ogni caso quindi la latenza è importantissima anche non solo per evitare ostacoli anche per evitare persone evitare di far male a persone la latenza è molto importante il ritardo del video e chi di voi avrà mai montato una gopro sul drone sa che le gopro hanno una latenza che è elevata è normale è normale non dico che le gopro facciano schifo perché la gopro funziona via wifi e ci sono tutto un sacco di burocrazia diciamo che devono fare i due dispositivi e comunque il digitale è molto molto lento da questo punto di vista per quello che nei droni si usa sempre analogico si usano gli occhiali fbv che sono analogici la risoluzione infatti anche su quelli che costano 400 euro è 540p non è una risoluzione alta non troverai mai degli occhiali 1080 non li puoi trovare perché ovviamente è protocollo analogico non può trasmettere l'accadine non riesce a trasmettere abbastanza informazione ma della risoluzione chi se ne frega basta che sia veloce basta che quando il drone gira nell'esatto momento in cui gira vedo anch'io girare proprio come se fossi proprio di persona lì sul drone devo essere proprio istantaneo e questo tutto questo discorso ho parlato per mezz'ora e tutto questo qui per dirvi che questo trabicolo anche se lui in realtà fa un output digitale sulla usb ormai il digitale è via cavo non è più via wifi ma è attraverso un cavo usb e quindi mi ha veramente stupito la latenza che è quasi nulla è veramente è quasi come quello analogico adesso probabilmente in questo momento starete vedendo una differenza tra quello analogico e quello digitale nel momento in cui vado a spostare il drone ve la faccio vedere anche al rallentatore si vede che uno dei due si muove prima ma è un buonissimo risultato è un buonissimo risultato anzi se riesco vi faccio anche il video con anche la gopro metto una gopro assieme al drone e vedrete la latenza della gopro rispetto agli altri due che è veramente allucinante quindi è un'ottima cosa nel senso si può utilizzare questo coso anche per guidare fare acrobazie fare un volo un po' allegro un'altra cosa che mi ha stupito tantissimo è che l'applicazione di cui mi sono indicato vi lascerò il link la trovate sul play store c'è sul play store in italiano mi sembra o forse in inglese non lo so comunque c'è sul play store ufficiale e l'applicazione supporta anche la cardboard la modalità cardboard quindi già in automatico dalle impostazioni o semplicemente col tastino sotto uno dei 6 tastini che ci sono sotto puoi splittare lo schermo in due per utilizzare un visore come questo questi qui sono i visori da realtà virtuale questo qui l'ho pagato 5 euro è un plasticone un visore come questo io ci butto dentro il telefono con il tramicolo attaccato e io posso avere un visore FPV molto economico è economicissimo perché questo qui l'ho pagato 5 euro e questo coso costa 15 in offerta su Banggood è in offerta in questo momento quindi se state guardando questo video nel momento in cui è uscito cliccate sul link in iscrizione e lo trovate in offerta non so se nei prossimi giorni lo sarà ancora però almeno nel momento in cui sto registrando questo video ho visto che è in offerta comunque io questo coso FPV questo visore l'ho pagato 60 euro ed è piuttosto ingombrante questo qui 5 euro di questa roba più 15 euro di questo quindi con 20 euro ne hai uno comodo leggero che puoi usare anche per vederti i filmati in 360 gradi su YouTube e comunque viene fuori un visore economico ma molto molto efficiente non lo utilizzerò personalmente per fare la FPV perché io ho bisogno degli occhiali ho bisogno di avere il coso chiuso e allora tanto vale non utilizzare il coso da realtà aumentata col cellulare ma lasciare il cellulare o un tablet o qualsiasi roba ad amici e parenti che stanno lì a fare da pubblico insomma e allora invece di guardare sto drone che fa e dire sì vabbè cosa ci sarà divertente vedono anche loro in prima persona sul cellulare sul tablet su quello che hanno e così possono divertirsi anche loro a vedere tutte le acrobazie a vedere proprio in prima persona l'adrenalina del volo detto questo io non so se vi ho detto tutto penso di sì penso di sì ecco non vi ho parlato del computer sul computer è ancora più facile del cellulare non bisogna neanche installare l'applicazione perché dal computer viene riconosciuto come webcam è bellissimo viene riconosciuto come webcam quindi potete visualizzarlo anche dalla stupidissima applicazione fotocamera di Windows voi aprite l'applicazione fotocamera quella banale di Windows stupida cambiate fotocamera ovviamente perché default probabilmente avrà la fotocamera integrata nel portatile oppure un'altra webcam che avete collegato via USB insomma c'è il tastino per switchare tra una webcam e l'altra e lo trovate tra la lista delle webcam e addirittura con OBS che è il programma che sto usando in questo momento per registrare lo schermo del computer programma che usano tutti gli youtuber e streamer quindi è fatto apposta per registrare sia schermo sia webcam io potrei anche registrare il mio filmato di volo quindi altra cosa interessantissima e potrei invece di lasciare questa cosa amici e parenti se non ho amici e parenti se non ho gente a cui devo mostrarlo o comunque loro possono in realtà vederlo allo stesso in diretta io una volta che vado a volare potrei portarmi via il portatile e lasciarlo lì con OBS a registrare direttamente dalla webcam lui crede che sia una webcam in realtà è lo streaming di questo e quindi ho registrato il video nativo di quello che vede l'FPV cosa comodissima pensate se l'avessi avuto quando ho fatto la recensione di questo drone che ero lì eravamo lì c'era il sole che picchiava sullo schermo non riuscivamo a inquadrare bene questo schermo con la macchina fotografica era un casino detto questo per questo mercoledì è tutto noi ci vediamo sabato con dovrebbe uscire finalmente questa nuova serie di web developing sabato scorso è uscito cos'è uscito è uscito è uscito un episodio di hacking quello con Maltego purtroppo non abbiamo fatto in tempo a riregistrare alcune parti perché appunto c'è il microfono rotto e quindi abbiamo perso l'audio di parti e quindi dobbiamo riregistrarle dovremo riregistrarle domani e quindi sabato dovrebbe finalmente uscire non perdetevi il video di mercoledì prossimo invece mercoledì prossimo perché annuncerò tutte le modalità per vincere il drone il drone che vi devo regalare quello rosso che ho recensito la settimana due settimane fa quello tascabile ve lo regalo però ne parliamo mercoledì prossimo quindi non perdetevi il video se volete poter vincerlo noi ci vediamo quindi sabato e luna mercoledì e luna eccetera ciao ciao ciao